Dottore Enrico Mantovani, come possiamo valutare la qualità della nostra vista? Sostanzialmente noi dobbiamo distinguere tra quello che è la capacità di vedere, cioè quello che viene inteso i dieci decimi che uno vuole vedere, e la qualità di visione, cioè sono due cose ben distinte, e una può essere mantenuta, mentre l'altra può essere una qualità non buona, quindi una visione offuscata, quella che viene chiamata in inglese blur, una visione magari con delle distorsioni, quello che è il glare in americano, oppure delle perdite di campo visivo, delle situazioni di aloni che vediamo intorno, cioè quindi delle distorsioni anche nella percezione visiva, nonostante una qualità mantenuta.